Non capita tutti i giorni per un dirigente scolastico ricevere il ministro dell'istruzione, è una soddisfazione o cos'altro? È un onore, prima di tutto, soprattutto per chi è a capo di un'istituzione e crede nelle istituzioni, per cui ricevere il ministro dell'istruzione è un grande onore per i docenti, per la scuola, per gli alunni e per il paese. Che cosa le ha chiesto, che cosa le ha detto, le ha esposto quelli che sono i problemi della vostra scuola? Io parto sempre da un positivo, che anche se ci sono i problemi è meglio costruire, quindi ho voluto premere sul fatto che nella scuola esistono persone che la scuola la sanno fare e la costruiscono anche al di là dei problemi. E il ministro cosa ha risposto? Che è contento e consapevole del fatto che nel territorio ci sia gente brava che la scuola la sappia fare e partire da questo invece che soltanto dalle polemiche è un cambio di prospettiva. Adesso che il ministro è andato via e restano un po' le problematiche, cosa bisogna fare? Lavorare come abbiamo lavorato fino a cinque minuti prima che arrivasse il ministro.